Con un ospite d'eccezione, l'attore Sebastiano Somma, protagonista dello spettacolo di apertura della stagione Uno sguardo del ponte, è stata presentata a Berletta nel Huayere del Teatro Curci, la stagione teatrale 2016-2017 il cui progetto artistico è coordinato anche quest'anno da Michele Placido. Slogan, sguardi ed emozioni al Curci, il tuo teatro. Un cartellone ricco e variegato, come hanno sottolineato in conferenza stampa il sindaco di Berletta, Pasquale Cascella, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Carmelo Grassi, la dirigente di attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese, Giulia Delisanti ed il direttore artistico dell'Associazione Cultura e Musica Curci, Francesco Monopoli. Sguardi ed emozioni perché il teatro suscita questi sentimenti, queste visioni, ecco diciamo così. Questo poi è il teatro della città, un teatro che la città contribuisce a tenere vivo e che noi vogliamo che sia sempre più l'espressione della capacità artistica, culturale che i nostri cittadini esprimono. Abbiamo messo insieme la prosa, la musica, la danza grazie al contributo del Teatro Pubblico Pugliese che ha voluto mettere insieme le esperienze nazionali anche insieme ad alcune eccellenze cittadine. Questo è qualcosa di importante insomma perché consente al teatro di essere quell'espressione di produzione della cultura che ci serve. 18, 19 e 20 novembre, tre giorni di incontri per parlare della nostra storia negli anni 50, per parlare della nostra emigrazione in America in quegli anni, con un testo straordinario di Arthur Miller, una compagnia diretta da Enrico Maria Lamanna e soprattutto un cast di attori, credo, importante, una bella tragedia classica ma anche divertente che ci farà riflettere su quelle che era la condizione degli italiani in America nelle situazioni difficili, clandestinità e non solo, e quindi la loro speranza di un futuro migliore. Questo è il senso dello spettacolo, vi aspettiamo. Grazie.